Caporalato e sicurezza nelle campagne e le piaghe della capitanata agricola. Foggia è tornato il direttore di Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti, che ha invocato l'utilizzo dell'esercito per debellare il fenomeno. Un primo aspetto ritengo sia da inquadrare nel fenomeno che noi, come sapete bene, rigettiamo è quello del caporalato. Noi dalla parte nostra abbiamo condotto una trattativa sul rinnovo del contratto di lavoro che portasse ad una realtà del mercato del lavoro. Ci siamo impegnati moltissimo e già questa stagione ha visto i suoi risultati. Dall'altra parte il 10 settembre abbiamo celebrato in occasione della Fiera del Levante un convegno sulla sicurezza alla quale è partecipato anche l'ex procuratore Caselli e abbiamo raccomandato per l'ennesima volta al governatore di farsi carico di un incontro collegiale con i prefetti tutta la Puglia perché oggi più che mai sulla Capitanata ma anche nell'altra realtà la questione della sicurezza di campagna è fondamentale. Non si può affrontare nel modo in cui è stato affrontato sinora. Se ricordate l'anno scorso noi facemmo un appello che poteva sembrare una provocazione ma provocazione non è che era quella dell'uso dell'esercito perché in alcune realtà si fa più fatica ad accettare di essere in qualche modo soggiocati da chi resta comunque impunito. Lo abbiamo visto in moltissime situazioni. Noi stiamo ancora aspettando alcune indagini importanti che sono state avviate per le quali però non si vedono risultati. Nel frattempo le nostre imprese continuano ad essere danneggiate. C'è bisogno di una svolta, lo abbiamo detto un anno fa, lo ribadiamo e stiamo curando l'iniziativa attraverso l'osservatorio delle agromafie a livello nazionale che riguarda specificatamente proprio la Puglia.